I studenti del Marsano parteciperanno il 23 settembre lungo via Balbi nell'ambito del giornato di obiettivo patrimonio, in collaborazione con la via Vodega Universitaria e l'associazione Genova Voci alla realizzazione di un percorso poetico botanico sul tema natura e cultura. Stiamo preparando Alessi Venti con piante, fiori e frutti per far cornice alle parole di Montale, Gozzano, Danuzio, Caproni, Pasquoli, Antonia Pozzi e Sbavaro. Vi raccorteremo qualche aspetto della vita di Giorgio Gallesio e dei genitori di Italo Calvino. Vi faremo passeggiare fra i colori, i profumi, le atmosfere legate alle piante della nostra città e della nostra regione. Cercheremo anche, in vista dell'esame di maturità, di immergerci a nostra volta in questo mondo. Forse sarà più semplice affrontare le prove avendo passeggiato con tali autori. Buona vista!